Oggi ragazzi vi voglio mostrare come migliorare la ginocchiata a vuoto con l'aiuto di una sedia. Quando porto la ginocchiata il piede sinistro deve rimanere dritto o al massimo posso fare una piccola rotazione ma non devo esagerare nella rotazione perché se no casco in avanti ok girando troppo il piede metto il peso in avanti e rischio di cadere per far sì che io porto la ginocchiata verso l'avversario devo portare il tallone verso il gluteo guardate e poi lo porto all'esterno come quando porto il diretto lo giro alla fine quindi boom e torno vedete come vado a bucare boom mano sinistra in protezione mano destra in avanti il mento verso il basso così da questa parte sono protetto dalla dal guantone sinistro da questa parte dalla spalla boom mi devo colpire e tornare spero che questo esercizio vi possa servire e vi possa far migliorare un saluto a tutti al prossimo esercizio